La terza parte della nostra terza puntata di In Umbria dedicata al dilemma rifiuti, così l'abbiamo denominato, ci porta a scoprire un po' come funziona un inceneritore. Ne abbiamo parlato, ovviamente non potevamo fare un viaggio, lo faremo più tardi, ma in impianti diversi al termine della nostra trasmissione in Umbria, perché appunto in Umbria non c'è, ma siamo andati a curiosare nella rete, abbiamo pescato questo servizio che crediamo in un paio di minuti ci faccia capire come vanno le cose a Parma in particolare, quindi non lontano da qui, una città per dimensioni e quindi anche per produzione di rifiuti non dissimile da Perugia. Vediamo. È considerato il peccato originale del giovane sindaco di Parma, l'ex grillino Federico Pizzarotti, estromesso gradualmente dal Movimento 5 Stelle anche grazie alla sofferta decisione di aprire nel 2013 il termo valorizzatore di Parma, nonostante lo stop promesso più volte in campagna elettorale. Noi siamo entrati dentro la sua pancia. In questa fossa c'è il rifiuto urbano indifferenziato di Reggio Parma e Undomani, quindi Roma, vedete infatti ancora i sacchetti, la benna polipo prenderà il rifiuto, lo metterà in un trituratore che serve per rompere il sacchetto in modo che si possa poi separare la frazione secca che è quella che verrà incenerita, mentre la frazione umida residuale verrà allontanata per subire un trattamento di impianto esterno. Per gli esperti del settore si tratta di uno tra gli impianti più avanzati a livello europeo, in grado di trasformare i rifiuti, adeguatamente trattati, in energia elettrica, calore attraverso il tene in riscaldamento e infine materiali di recupero. Le numerose manifestazioni di protesta dei primi anni si sono lentamente dissolte, grazie anche alle prestazioni e al sistema di controllo computerizzato delle emissioni. Come si risponde a chi dice che i termo valorizzatori hanno un impatto ambientale molto alto? Abbiamo per esempio dei filtri a maniche, che sono delle calze, il fumo per attraversarlo, vengono trattenute le particelle inquinanti e dosando dei reattivi chimici si neutralizzano i gas acidi o i metalli o vengono catturate le diossine. È stato calcolato che grazie al teleriscaldamento prodotto dall'impianto, la città di Parma è stata in grado negli ultimi anni di ridurre le emissioni e l'inquinamento dovuto alle caldaie a gasolio, mentre la produzione di energia elettrica è ora in grado di coprire consumi di circa 75 mila cittadini, poco meno della metà degli abitanti di Parma. Ed è la scelta che, per esempio, tutte le città del nord Europa, molto attenti agli aspetti ambientali dalla Scandinavia alla Germania, adottano usualmente. Impianti di ultima generazione, che se non sono ancora riusciti a convincere i più scettici in patria, raccolgono consensi entusiastici all'estero. Tanto che in Danimarca, a Copenhagen, il nuovo termo valorizzatore da 750 milioni di euro, prossimo all'inaugurazione, diventerà tra breve meta di culto per gli amanti dello sport all'aria aperta, con 200 metri di pista da sci sul tetto della struttura, impianti di risalita e persino pareti per l'arrampicata. Ora, noi in Umbria speriamo che riapra Forca Canapina, non abbiamo bisogno di altre piste scistiche. Riparto da Monica Tommasi, prima si parlava di diossina, ma da domanda da Uopera della Strada, è possibile che impianti di questo tipo siano meno impattanti rispetto ad altre soluzioni? Certamente sì, soprattutto sono, ripeto, sono molto meno impattanti rispetto alle discariche, che sono la cosa più impattante che c'è da un punto di vista dell'ambiente e della salute umana. Gli inceneritori, peraltro, ora questo di Copenhagen è bellissimo perché c'è la pista da sci, ma gli inceneritori italiani non hanno niente da invidiare a questi europei, anzi, noi abbiamo gli inceneritori più all'avanguardia in Europa. La fermo un attimo perché abbiamo proprio la slide che ci dà un pochino la cifra di quella che è la presenza di questi impianti nella nostra Italia, nel nostro paese, perché si nota che la maggior parte sono al nord, anzi direi quasi la totalità. Abbiamo chiamata la slide delle due Italie e dal centro-sud invece vediamo che sono molto diradate. Come si spiega lei questa cosa? Poi chiedo anche all'assessore. I motivi sono tanti, si spiega perché per una questione di consenso, alla fine non è stata fatta, come in Umbria nei fatti, la scelta di proseguire nell'ampliamento delle discariche ha portato a, non solo ad ampliarle, addirittura adesso non sappiamo più dove mettere l'immondizia, quindi li stiamo soprelevando. Quindi faremo una violenza, per esempio, sulle Crete, questo bellissimo paesaggio dove adesso verrà fatta una collina sopra i galanchi. Però, ripeto, gli inceneritori sono bufale, sono tutte bufale quando si dice che gli inceneritori inquinano. Gli inceneritori ormai, rispetto agli anni 90, hanno dei livelli di diossina che sono 0,609, quindi praticamente non esiste, non producono diossine. Riducono tantissimo invece le emissioni. Ricordiamoci che l'inceneritore nuovo bellissimo di Bolzano, alle porte di Bolzano, ha ridotto del 18% le emissioni sia di particolato che di CO2, quindi non è proprio... quindi da uno studio, per esempio, di Acerra, del CNR, uno studio scientifico, ha dimostrato che l'inquinamento vero non è dell'inceneritore di Acerra, ma è del porto di Napoli e della zona industriale di Napoli. Quindi tutte le emissioni vengono da lì e non dall'inceneritore, per cui poi bisogna anche valutare, mettere sulla bilancia questi aspetti. Io chiedo all'assessore, avrà visto magari lo sketch di Crozza che ha detto che inquinano più il capodanno di Napoli rispetto a 120 inceneritori, ora al di là della butad, rispetto a questo dibattito e al fatto che comunque chi amministra deve sentire ovviamente anche gli umori delle comunità, deve gestire gli umori dei sindaci e sappiamo che anche lì ci sono visioni molto differenti. In Umbria c'è terreno per cominciare a parlare di queste cose, al di là appunto dei numeri, della capienza di cui lei ci ha già detto. Oppure è un, secondo lei, un argomento che resterà tabù? Io intanto sono al lavoro con una giunta ed un'amministrazione regionale che fin qui finisce il suo mandato nel 2020, quindi dal 2020 in poi ci può essere un nuovo consiglio regionale che pensa in tutt'altro modo rispetto a quanto pensa, ha pensato e ha legiferato il consiglio fin qui. Dopodiché quando si amministra c'è sempre bisogno di far prevalere l'etica della responsabilità anche rispetto a quella della convinzione ed in questo caso la responsabilità è di attuare gli strumenti di programmazione che noi abbiamo, le norme che noi abbiamo, il rispetto anche di quello che pensano e dicono i comuni che in qualche modo rappresentano le antenne della sensibilità dei nostri territori che ci portano appunto ad affermare fin qui che laddove noi riuscissimo ad andare a superare le problematiche che abbiamo nell'ex ambito 2, quindi nell'ambito che sta sotto l'universo Geseno con geste sia TSA, facendo quello che si è detto di fare a Pietramelina, consolidando Borgogiglione e perché no, anche modificando o a Ponterio, ma questo lo può fare anche Asme o Acea a Dorvieto, utilizzando le migliori tecniche a disposizione, dotando quell'impiantistica che noi abbiamo come un'impiantistica in grado anche di produrre CSS da combustione, quindi in questo caso io credo che chiuderemmo il ciclo in una maniera che non va a entrare in rotta di collisione con popolazioni che poi alla fine non è detto che i cittadini hanno sempre ragione e anzi la politica e l'agire amministrativo dovrebbe stare un passo avanti, dovrebbe dare quegli input che danno la possibilità di dire c'ho una strategia, c'ho un processo, però noi riteniamo che appunto in Umbria si possa andare avanti con questa impostazione anche legandola al quantitativo di rifiuti che noi produciamo, perché se è vero che tra l'altro produciamo 450 mila tonnellate di rifiuti, prima è stato detto in esattezza, non è che 450 mila tonnellate di rifiuti vanno in discarica, perché in discarica ci vanno 160 mila, 180 mila tonnellate dopo il trattamento ed altro, quindi è chiaro che bisogna migliorare, noi siamo i primi a dirlo e anche per questo, anche nella settimana scorsa abbiamo portato in giunta una delibera che dà degli obiettivi più incisivi ai comuni e ai gestori, perché voglio ricordare la regione Umbria, come tutte le regioni, ha in capo la programmazione, la predisposizione degli strumenti legislativi, normativi, dagli obiettivi, mette a disposizione anche un po' di cofinanziamento laddove ci sono operazioni di ammodernamento degli impianti, ma non è proprietaria né di discariche né di impianti, non ha in capo la gestione di un qualsiasi tipo di passaggio della gestione dei rifiuti, però dalla rotta politica, dalla rotta politica in questo caso che dentro questa rotta politica io credo ci debbano stare fino in fondo i comuni, i gestori, anche, la metto in questo modo, i comuni chiudendo un po' una fase in cui, perché a volte il comune nella gran parte dei casi è proprietario anche della società che gestisce, anche se poi è affidato come con regolare gara. Sappiamo che in Umbria ci sono diverse società, diverse dinamiche. Certo, ci sono società private, ci sono quindi non tutta l'Umbria partecipate, ci sono completamente società pubbliche e però anche il fatto che ci siano dei comuni che fanno più, come dire, gli interessi della società di cui sono soci che non gli interessi dei cittadini sicuramente non aiuta, quindi io credo che i sindaci, i comuni in primis, i gestori... Ci fa qualche nome, Assessore? A chi si riferisce? Il Comune di Perugia? Ecco, una. Vabbè, abbiamo lasciato sottintesi. Prima chiedeva la parola Ganapini, io vi faccio vedere questo barattolo che è qui sul mio tavolo, perché ne abbiamo parlato fino ad ora e questo se viene inquadrato può sembrare un residuo di, non so, di aspirapolvere eccetera, ma in realtà è il CSS. Probabilmente molti dei nostri telespettatori non lo avevano mai visto, confessano che anch'io ero un po' incuriosito, ce lo siamo in qualche modo procurato e questo è il famoso famigerato, chiamatelo come volete, combustibile solido secondario. Prima ce ne parlava Nodessi che, Assessore ricordiamo, viene prodotto anche in Umbria, ma non utilizzato di fatto, viene esportato. Viene prodotto in Umbria è una parola? Quando parliamo di CSS, io non sono né tecnica né esperta, però mi è stato insegnato che nella parola CSS si può comprendere un mondo di produzione. Il CSS che va a combustione è quello prodotto per questo fine, mentre alla fine tutto quello che esce anche dalla selezione, una volta stabilizzato, può essere in qualche modo in modo rozzo definito CSS. Quindi il CSS è un insieme di cose. Volevamo far vedere cosa si nasconde dietro questo acronimo. Velocemente per ricordare che il CSS ha tante specifiche. C'è il CSS base che è il CSS rifiuto che può andare a termovalorizzazione, fino ad arrivare al CSS combustibile che è quello che credo che ha rimediato nella bottiglia, perché è stato sminuzzato. Il CSS rifiuto è più grezzo, con pezzature più grandi. Il CSS combustibile invece assume proprio una piccola, una parcellizzazione molto minuta perché favorisce, innalza la capacità termica del rifiuto. Però indubbiamente quello è materiale che metterlo in discarica è un peccato mortale. Insomma, ecco, questo mi sento veramente di avvalorare la tesi con forza che il ciclo per essere chiuso comunque, io dico sempre, un tavolino... Ovviamente questo è un derivato, nel senso è la lavorazione di un... Per stare in piedi il tavolino ha tre gambe, con due non sta in piedi, con quattro traballa. Le tre gambe sono l'umido e abbiamo aperto a Casone, Foligno, un bellissimo impianto che valorizza il biogas. Tra l'altro il recente Ecoforum di Legambiente lo ha sottolineato. Quindi riusciamo a fare gas che immettiamo nella rete cittadina recuperando dai rifiuti organici. La raccolta differenziata, che è la gamba più forte, più importante, che bisogna farla e farla bene perché ci permette il risparmio, perché è il futuro. Però una gamba più piccola, ma ci vuole anche quella, chiudere il ciclo con la termovalorizzazione. Altrimenti quei parametri che ci dà la Comunità Europea di mandare in discarica non più del 10% del rifiuto prodotto non è possibile raggiungere. Eravamo in debito con un passaggio con Ganapini che ci chiedeva... Per dire molto brevemente, quando si ragiona di questioni tecniche, io credo sia importante quando si parla di tecnologie, né demonizzare né divinizzare. Il tema non è divino o demone. Il tema base è fare i conti con i numeri e con le situazioni. Allora, lo ha già detto l'ingegnano Odessi, lo ripeto, la taglia minima commerciale di una linea di incenerimento, la taglia minima, è 150.000 tonnellate. E di solito, ponendosi un tema di avere uno stand-by, se ne fanno due e sono 300.000 tonnellate. L'Umbria, già oggi, può arrivare a produrre 80.000 tonnellate di secco. E dunque non c'è nessun senso tecnologico da questo punto di vista. Ricordando, peraltro, che una delle discariche citate, peraltro, riceve decine di migliaia di tonnellate di rifiuti che vengono da fuori Umbria, nel bilancio del dare della vera regione Umbria. Da questo punto di vista… E le crete si riferisce a… Assolutamente sì. Dal punto di vista, come dire, dei flussi, giustamente richiamato dalla dottoressa Tommasi, il tema base è che una volta data la cosa fondamentale, che… Certamente, parlo non come direttore dell'Ap, parlo come cittadino che vive anche molto questi temi sul piano personale, certamente occorre incrementare la dotazione impiantistica di questa regione. Fondamentale è ottimizzare ciò che in qualche misura è già in corso, nella logica di massimizzare il recupero di materia fino a fare, che stanno nascendo a Panicale, a Castiglione, a Spoleto, i Repair Café, che è un lancio tedesco-americano-francese, rimettendo in gioco artigiani in pensione. Prima, non credo sia stata Noemi Campanella, ma è passato il tema che gli anziani facevano più fatica. Ricordatevi che se ha avuto successo il botto a Milano, da cui tutto nasce nel 1996, della raccolta differenziata porta a porta, è perché i cittadini anziani sono stati la nervatura lungo la quale, venendo da epoche in cui c'era una cultura di parsimonia nell'uso delle risorse, sono diventati motori di questa esperienza. Quindi anche in Umbria è fondamentale dare vita e dare corpo a questo tipo di situazioni con quelle che si chiamano, lo diceva anche l'ingegnere Nodessi, le fabbriche dei materiali. Dopodiché, in un normale schema di flusso, quando si arriva allo rifiuto urbano residuo stabilizzato in logica di trattamento biologico-meccanico, che hanno inventato i tedeschi, perché i tedeschi sul rifiuto urbano residuo hanno detto facciamo il TMB? Per il banale motivo che a parità di potenzialità giornaliera, il costo di investimento e il costo di esercizio di un TMB è un decimo, è lo stabilizzatore, quello che è stato fatto è che c'è una parte di casone, una parte di bella danza, bisogna farne ulteriori, ce ne sono a terni. Il tema base è stabilizzare questa parte che rimane di rifiuto, perché giustamente lo zero non esiste in un sistema termodinamico. Quella parte viene stabilizzata perché, ripeto, trattare una tonnellata in TMB o mandarla all'incenerimento costa uno contro dieci, cioè il costo di investimento d'esercizio dell'inceneritore è dieci volte il TMB. Ciò detto, una volta che ho essiccato e depurato il rifiuto urbano residuo stabilizzato, che mediamente perde il 40% in peso, di quel secco posso fare tante cose. Personalmente, lo ripeto, è del tutto ammesso dalle norme che si vada a incenerimento se uno vuole comunque fare un inceneritore, ma è ammesso mandarlo ad esempio a impianti industriali esistenti, cementerie, siderurgie, sono classicamente, come dire, vocate per questi usi. Terzo, che però non va dimenticato, quel materiale, e lo stabilisce il laboratorio delle ferrovie dello Stato nei suoi standard per i suoi bandi, quel materiale è utilizzabile anche in edilizia come sottofondazione. Quindi sono tutti usi ammessi. La politica, le istituzioni e i cittadini possono decidere questo. E da ultimo, e ho finito, mi perdono il tema base anche rispetto a Parma e alle altre realtà. Parma, Milano, Brescia, Torino, Padova, vivono intanto in quanto sono alimentati di rifiuti terzi. Che arrivano da altre regioni. La regione Lombardia ha stabilito nel nuovo piano regionale di toglierne tre inceneritori, perché non ha più da dargli da mangiare. Allora, questo cosa vuol dire? Che vanno chiusi quelli che ci sono. Quelli che ci sono sono impianti industriali. Se rispettano le normative che funzionino, ma in logica integrata, anche di collaborazione. L'optimum sarebbe ridurre al massimo il conferimento in discarica e a quel punto, se non c'è più bisogno di inceneritori, vuol dire che siamo stati bravissimi. Sapendo che siamo in un paese... Però da qui ad allora bisognerà arrivarci. Sì, però sapendo, ho finito, chiedo scusa a tutti, sapendo che in questo paese, però, finalmente se ne sono accorti, se ne è accorto Federico Caffiero, De Rau, con cui ho molto lavorato a Napoli, Nicola Gratteri e gli altri, in questo paese la vera emergenza di rifiuti oggi è il fatto che in tre anni sono stati bruciati dalla criminalità organizzata 316 impianti di trattamento, di recupero e stoccaggio di rifiuti. 316 impianti di roghi dei rifiuti, di guerra dei rifiuti allo Stato e finalmente ora lo Stato sta, come dire, rispondendo. Prima di andare all'ultimo break pubblicitario sentivo Tommasi fremere e sentiamo... I capannoni bruciano non per la criminalità, i capannoni bruciano, la criminalità entra quando c'è, ma il governo, cioè quando non c'è il governo delle regioni che gestisce i rifiuti. Questo sta accadendo nei capannoni del nord perché non sappiamo più dove mettere la plastica. I cittadini devono sapere che il 50%, cioè tutta la plastica che noi raccogliamo in maniera differenziata, il 50% la Corepela lo prepara, che è il consorzio che lavora la plastica, che la gestisce di imballaggio, lo prepara per andare a bruciare perché non c'è alternativa. Quindi questi dati bisogna anche raccontarli. Mi spiace essere scorretto, ma mi perdoni, questo è un tema molto discusso, va bene, lei dice bruciano la rega perché. Allora, nel 1991 Eni attraverso Agip e attraverso il suo compatibilizzante sperimentò la produzione di bitume per asfalti stradali che includessero tutti i rifiuti plastici di questo paese e a Ragusa ci sono 30 chilometri di strada sperimentata in condizioni di insolamento e salinità estreme che hanno dimostrato che questo mix è la risposta industriale al tema dei rifiuti plastici. Siamo d'accordo, sulla parte finale del rifiuto siamo d'accordo, il problema è che qui stiamo giocando sui dati e non mi piace, non va bene, informare questi cittadini non è piacere. Quello che fa piangere il cuore è che in questo momento in Germania, Inghilterra, Irlanda e Olanda fanno le strade con i rifiuti plastici. Magari che arrivano dall'Italia. Ma gli stadi si fanno anche con i residui depneumatici e in Italia non lo permettiamo. C'è bisogno di culture industriali in questo paese. Certamente che c'è bisogno, ma io l'ho detto in premessa. Credo che stiate dicendo più o meno la stessa cosa. Stiamo dicendo la stessa cosa, semplicemente dico che la criminalità entra quando non c'è buon governo, cioè quando si ammassano i rifiuti perché non sappiamo che cosa farci. quando dall'anno scorso la Cina non accetta più i nostri rifiuti che noi mandavamo in Cina, tutti i rifiuti di plastica, noi ci troviamo in una situazione drammatica. Il 2019, secondo le stime, sarà un'annata dove ci saranno non 100 incendi di capannoni, ma ci saranno almeno il doppio degli incidenti dei capannoni, con dei danni ambientali alla salute indicibili. Questo è quanto. L'altra questione che fremevo è perché il trattamento meccanico e biologico non è una soluzione, è un frullatore per far capire ai cittadini, è una roba che stabilizza, che separa, che rimette a posto, che soprattutto è servito, e non ce lo dimentichiamo, a Milano per far portare i rifiuti in Umbria, perché Milano aveva un grosso problema nel 94, è servito per cambiare codice a rifiuto, cioè da rifiuto urbano è diventato codice rifiuto speciale, quindi può viaggiare, può viaggiare, ma se questa è l'economia circolare siamo messi malissimo. E' proprio bisogno di uccidere il turismo dei rifiuti. Siccome i rifiuti li abbiamo ricevuti noi in Umbria, in particolare a Dorvieto, dopodiché però la Lombardia ha fatto un grande passo, ha deciso di costruire gli inceneritori, oggi la Lombardia è una delle regioni più virtuose d'Italia. La cosa da cui bisogna partire è la discarica, dobbiamo da domani affamare le discariche, come usando un termine del Ministro Conte, affamare le discariche, dobbiamo dire da domani basta le discariche, perché io sento dal 2008 che la Regione Umbria dice domani raggiungeremo il 65, domani raggiungeremo il 65, siamo al 2018 e siamo al 52%, significa che il 57% va... Beh non è così, no? È così signora, scusi, ma se il 57% va... Sì, ma non faccia rispetto alla sua intelligenza dicendo cose che non sono le, non sono i dati. Il 57% dei rifiuti dati Ispra va a finire nelle discariche. Vediamo, diciamo, c'è una vertenza legata alle percentuali... Il 58 e il 60, nei fatti noi non abbiamo né raggiunto gli obiettivi che ci eravamo preposti nel 2012, quindi significa che abbiamo ampliato le discariche tre volte in questi anni, cosa che è gravissima, perché alle discariche ci deve arrivare il 10%, anche il 5%, come funziona? Nelle altre regioni, vogliamo prendere Treviso perché ora va di moda, facciamo come Treviso. Bene, è chiarissima Monica Tommasi, noi però andiamo in break pubblicità, è l'ultimo, tra poco noi parleremo, salutando prima i nostri ospiti, anche proprio di circolo virtuoso della materia in agricoltura. Non c'entrano stavolta i rifiuti perché abbiamo compiuto un viaggio in Alto Tevere per andare a vedere come funzionano alcuni impianti che utilizzano prodotti agricoli o i resti dei prodotti agricoli per produrre energia che permette di coltivare anche prodotti che altrimenti sarebbe difficile trovare in quella zona che penso che l'assessore conosca abbastanza bene. Pubblicità e tra poco l'ultima parte in Umbria.